Primo appuntamento con l'informazione di Florence Multimedia, in studio vi dà il buongiorno Andrea Biagioni. Situazione regolare su tutta la rete autostradale cittadina, per il momento da segnalare solamente un incidente in Fipi Litra, Ponte d'Era, Ovest, Ponsacco e Gello in direzione Livorno. Sulla 1 invece da segnalare personale su strada a causa di lavori tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano in entrambe le direzioni e tra San Savino e Val di Chiana, sempre in entrambe le direzioni. Diamo uno sguardo alla situazione della tramvia per quanto riguarda i cantieri della linea 2, si ricorda che verranno prolungati i lavori in Viale Fratelli e Rosselli per il collegamento tra i binari di via Guido Monca e quelli di via Lamanni. Chiudiamo con i treni, l'Intercity proveniente da Catania è diretto a Milano Centrale, viaggia con 141 minuti di ritardo, ferma a Pisa alle 8.18. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!